Il nostro onore, il riassunto della seconda puntata. All'inizio del secondo appuntamento, Vittorio ha dovuto ostacolare il lavoro dell'avvocato che in passato era stata sua tirocinante. Infatti, Nino non vuole passare in galera del tempo per un reato che non ha commesso. Per questo decide di parlare con il suo avvocato e le dice che per il giorno dell'omicidio stradale lui aveva un alibi, ovvero stava rubando un'auto dall'altra parte della città. L'avvocatessa lo dice al protagonista che chiede aiuto a Salvatore per fermare il nipote. L'auto rubata si trova da un carrozziere che era anche un ricettatore e così Vittorio e il poliziotto della DIA vanno da questo carrozziere per far sparire l'auto. Poco dopo arrivano Sara, la poliziotta, insieme all'avvocatessa per cercare quest'auto dal carrozziere. Non la trovano ovviamente perché è stata fatta sparire e iniziano a pensare che Nino abbia mentito o meglio, lo pensa Sara, l'avvocatessa no. Il clan dei Silva inizia a pensare che Diego sia stato investito da Nino anche perché poco dopo il giovane è stato arrestato e così si vorrebbero vendicare. In carcere tentano di accoltellare il giovane ma alla fine viene colpito suo cugino. Vittorio si sente in colpa e pensa di farlo entrare in un programma di protezione. Nel frattempo il figlio del personaggio interpretato da Stefano Accorsi inizia a frequentare la figlia del vicequestore. Suo padre, ovviamente, non è contento per in quanto ha paura che al giovane possa scappare qualcosa riguardo all'incidente. è stata fatta. Nel frattempo.